Musica Ancora si respira l'aria del Natale a Sturno, dove in una delle cornici più suggestive del paese, il Palazzo dei Baronigrella, si è tenuto il concerto di Natale, un concerto itinerante, diverso, che unisce alla musica l'architettura. La scoperta di un luogo incantevole risalente al 1700, con il professor Michele Sisto, a fare da guida i tanti che hanno voluto visitare la struttura e ascoltare gli artisti esibirsi. Sei appuntamenti all'insegna della musica e del gusto compongono il ricco calendario previsto dal progetto Concerto di Natale, voluto dal comune di Grotta Minarda e co-finanziato dalla regione Campania, e che vede come comuni partner Bonito, Castelbaronia e proprio Sturno. Siamo qui con un evento molto particolare. Abbiamo gruppi di persone che entrano, gruppi di 15-20 persone che entrano con la guida, la quale spiega un po' la storia di Sturno e spiega un po' la storia di questo palazzo, perché qui c'è la storia e c'è anche la storia di Sturno, allorquando nel 1809 Sturno ebbe l'autonomia dal comune di Friggendo, e qui si facevano le riunioni per poter arrivare a questo risultato. Quindi le persone entrano, girano in questi ambienti con la musica in sottofondo, la musica di musicisti di fama internazionale, possono degustare dei prodotti tipici qui a fianco e quindi fanno il giro del palazzo. Siamo felici di questo evento che è stato un evento riuscito e speriamo anche in futuro di farne altri in questa struttura.